Allora, innanzitutto vi chiedo subito scusa per il basso tono di voce ma è l'una passata e non voglio inimicarmi il vicinato. Allora, io sinceramente fino ad oggi pensavo che la sconfitta contro la Lazio fosse stata il classico ostacolo nel cammino, la classica partita stregata in cui tutti sbagliano, in cui tutti fanno una prestazione ridicola, in cui ci si porta a casa tre banane senza aver capito ancora come. Purtroppo, questa sera ho capito che invece i problemi sono più gravi di un semplice ostacolo di percorso. Questa squadra non gira a dovere, questa squadra ha evidenti problemi difensivi. Se guardiamo i numeri, i semplici e freddi numeri, ci rendiamo conto che, ed è una cosa che mi ha fatto veramente riflettere, abbiamo preso otto gol in cinque partite. Otto gol in cinque partite significa più di un gol e mezzo a partita e un gol e mezzo a partita è tanto, è veramente tanto. Significa avere una difesa veramente scarsa, veramente scarsa. E soprattutto sono arrivato alla conclusione che se ci si trova davanti con pagini un po' più toste rispetto a una semplice cremonese, una semplice spezia o un semplice lecce, si va in difficoltà. E questo lo abbiamo dimostrato sia contro la Lazio che questa sera contro il Milan. Io l'episodio della partita che più mi ha fatto preoccupare è stato il secondo gol di Leao. Il secondo gol di Leao praticamente sembrava un sedicenne di un metro e ottanta che va al campetto di periferia e gioca con i bambini di 7-8 anni. Praticamente ne ha scartati cinque ed ha depositato tranquillamente il pallone in rete, senza trovare la benché minima difficoltà. Questo a me ha preoccupato. Quel gol mi ha fatto capire, mi ha fatto capire chiaramente, che questa squadra difensivamente ha dei seri problemi. Ha dei seri problemi. Perché allora mi potete venire a dire che abbiamo avuto una mezz'ora di blackout, mi potete venire a dire che siamo andati in pappa, tutto quello che volete, ma non è possibile che un attaccante avversario ci segni in questo modo. Allora, partiamo dal presupposto che Leao è fortissimo, partiamo dal presupposto che Leao è un campione assoluto e su questo non ho alcun tipo di dubbio. Ma ragazzi, prenderci un gol così è veramente, veramente triste. È veramente indice di una debolezza difensiva veramente notevole. Per quanto riguarda il resto, ho notato anche che l'Inter ha sofferto particolarmente, ha sofferto particolarmente a centrocampo. Per la prima volta, dopo molto tempo, ho visto Brozovic sbagliare degli appoggi. Ha fatto anche tante buone cose, bisogna dirlo, perché Brozovic ogni volta che gioca è uno spettacolo per gli occhi. Però quest'oggi ha commesso parecchi errori e sinceramente io non ero abituato a vedere Brozovic sbagliare così tanto. Ha sbagliato veramente, veramente tanto. Lo stesso dicasi per Barella. Poi, altro discorso, loro hanno un calciatore che si chiama Teo Hernandez, che è, presumo, il calciatore più odioso dopo Quadrado, o forse è equivalente a Quadrado, che io abbia mai visto giocare in un campo di calcio. Però questi giocatori sono utili alle squadre che li hanno a disposizione proprio per provocare l'avversario. Oltre a provocare, questo è anche forte, però tralasciamo la sua forza e concentriamoci su questa sua caratteristica. Lui ha fatto già dai primi 4-5 minuti innervosire chiunque e quando tu riesci a fare innervosire gli avversari, poi li mandi in bambola. Questa è una tecnica subdola del calcio, ma è una tecnica che tuttora funziona e bisogna dire assolutamente che Teo Hernandez è un grandissimo interprete di tutto ciò. Ti fa innervosire, ti fa girare le palle, è odioso e questo ha portato a far perdere la testa a molti dei nostri. Per quanto riguarda il resto, io ho sentito su Twitter tanta gente che si lamentava di Andanovic. Ok, sì, allora Andanovic quest'oggi non ha fatto una cattiva partita. Perché se noi andiamo a vedere i tre gol, il primo di Leaura è anche quasi riuscito a prenderlo. Però il problema non è la prestazione buona che ha fatto Andanovic perché Andanovic non puoi non dargli un 6 anche se ha preso tre gol perché fondamentalmente sui tre gol era incolpevole. Il problema di Andanovic è stato il confronto impietoso con Mike Magnan. Mike Magnan ragazzi questa sera ha fatto una partita incredibile. Io raramente ho visto un portiere fare una partita come quella che ha fatto Magnan questa sera. Sembrava il Julio Cesar dei Tempi d'Oro, sembrava il Nelson Dida dei Tempi d'Oro. Ha parato di tutto. Cioè quel tiro di Cialanoglu a rincrocio l'ha tolto con una facilità estrema. Bravissimo con i piedi, attento, coordinava la difesa. Cioè ragazzi, loro hanno giocato con un elemento in più. Cioè questa partita non dico che l'ha vinta Magnan perché sarebbe riduttivo nei confronti di un avversario che a mio avviso è da ammirare. È da ammirare. Perché allora al di là dei nostri demeriti bisogna comunque riconoscere parecchi meriti ai nostri avversari ragazzi. Perché io ho sempre avuto dubbi nei confronti del Milan. Ma perché? Perché io come tanti sono un tifosotto provinciale. Sono uno che è ancora collegato mentalmente al discorso delle figurine, al discorso dei nomi. Io parto dal presupposto che se una squadra non ha determinati campioni, non ha determinati nomi, non può vincere campionati o cup. Il Milan mi sta facendo ricredere. Mi sta facendo ricredere perché è una squadra dove fondamentalmente non ci sono elementi di spicco, ma è una squadra che ragazzi stasera quantomeno ha giocato veramente bene. Veramente bene. Io parlo di stasera perché l'ho vista anche col Sassuolo e vi dico che era tutt'altro Mila. Però questa sera mi ha positivamente impressionato. Mi fa girare le palle. Mi fa girare le palle perché abbiamo perso meritatamente. Loro hanno vinto meritatamente e purtroppo spero veramente che questa partita non possa implicare un contraccolpo psicologico perché si gioca ogni tre giorni ragazzi e non ci possiamo permettere di fare altri passi falsi perché come abbiamo visto attorno a noi la gente continua a correre. Un saluto a tutti.